Con l'inaugurazione della mostra dedicata a Gian Maria Volontè al Teatro Margherita sono iniziate oggi le prime attività dell'edizione 2014 del Bifest, il Festival del Cinema di Bari. L'apertura della quinta edizione del Bifest sabato 5 sarà affidata a Paolo Sorrentino, la chiusura a distanza di una settimana ad Andrea Canilleri, intervistato da PIF. Sono le ultime novità dell'edizione 2014 del Bari International Film Festival, all'illustrate nel corso dell'incontro con i giornalisti a Bari, al quale hanno partecipato tra gli altri il direttore artistico Felice Laudadio e l'assessore alla cultura della regione Puglia Silvia Godelli. Un ulteriore arricchimento degli eventi non strettamente filmici, l'obiettivo di coinvolgere con grandissime testimonianze, grandissimi personaggi, si pensi a Sorrentino oppure a Camilleri, tutto il territorio regionale e anche di più e soprattutto i più giovani. Laudadio ha confermato la crescita del pubblico del festival passato in 5 anni da 25.000 a 70.000 spettatori, rispetto allo scorso anno invece è calato il numero degli appuntamenti da 402 a 338 e tra questi ci sarà il contributo a 20 anni dalla morte a Gian Maria Volontè al quale sono dedicati 75 tra incontri e proiezioni cinematografiche. Non ci sarà Francesco Rosi, a 92 anni non se la sente di affrontare il viaggio al suo posto, ci sarà una sua intervista realizzata dal critico Marco Spagnoli. Evento di apertura sabato sera l'anteprima italiana assoluta di Noa di Darren Aronofsky con Russell Crowe ed Anthony Hopkins appena uscito negli Stati Uniti dove ha battuto il record di incassi del weekend. Nell'attesa sono partite le prime attività di questa edizione, due mostre, una dedicata a Volontè nel Teatro Margherita, l'altra a 5 anni del B-Face nella Sala Miura.